Allora, se mangi ma sei! A dove stai da un gattolo? Vieni, se ti fai le carne nella San Cristina! Ma chi ti ha scemonito? E che lo cattaro che ti è, ora vi è delusciro, vi dargli passi! Uaiù, è pronto! Mettete a mangiare! Oh, che ti fai? Eh, stai finito a raffinare la farina. Oh, 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 Tog! Guarda quando è friato! E non bevi, ti posso fare un taralla! Bella panella! Molto, molto! No, assaggio! E' tostante l'umore! Le biscotti buongrano! Le fai solo banderas! Uaiù, uaiù! Volete sapere perché sono cucina in un bel minuto? Perché mangi tutto questa roba! Le pallate di papene! Le cicce! Le fasciole! Le verdure! Che stai aspettando? Ma non c'è un roggio! Uaiù, non c'è anche la sua pietra! Uaiù! E che donna fai qui? Non ti preoccupare, Giovan, che ti raccate quella che mi uscì da un mannetto! Non mi ha armato, neanche un quattro! No! Oh! Caccia di dove! Mmm! Fa un marapino fu un estri! Il volo solo il porto è venuto dalla moglie! Uaiù! Grazie a tutti.